E' arrivata ieri pomeriggio la sentenza del giudice Giancarlo Caruso per i tre imputati coinvolti nel processo scatturito da quella che è stata definita la strage delle Macalube. Era il 27 settembre del 2014 quando i fratellini Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, stavano compiendo una passeggiata insieme al padre, l'appuntato dell'arma Carabinieri Rosario, presso il sito aragonese delle Macalube. Fu allora che, a seguito della straordinaria attività dei Vulcanelli, i due piccoli furono sommersi da tonnellate di fango. Sono passati oltre tre anni da quel funesto evento e adesso è giunto il verdetto che chiude un'intera fase dell'inchiesta nata sul caso. Condanna a sei anni di reclusione per il direttore della riserva Domenico Fontana, all'epoca dei fatti presidente regionale di Lega Ambiente, ente che gestisce la riserva in base ad un contratto con la regione. Condanna a cinque anni e tre mesi invece per l'operatore del sito Daniele Gucciardo, assoluzione infine per il funzionario della regione Francesco Gendusa. Il verdetto giunge dopo oltre quattro ore di Camera di Consiglio. Ieri mattina il giudice aveva dato la parola agli avvocati per le ultime arringhe della difesa. Durante la requisitoria, lo scorso novembre, il PM Carlo V aveva chiesto, con l'accusa di omicidio colposo plurimo, otto anni di reclusione per Fontana, sei anni e otto mesi per Gendusa e cinque anni per Gucciardo. Per i due condannati è stata dichiarata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. La sentenza li condanna inoltre a risarcire, in solido con Lega Ambiente, i genitori delle piccole vittime con una provvisionale subito esecutiva di 600 mila euro per ciascuna parte civile. A questo si aggiunge anche il pagamento delle spese processuali, quantificate in 7 mila euro per ognuna delle parti civili.